Salve, miei cari amici e miei cari fratelli. Questo è un nuovo video perché le sorprese non finiscono mai, fratelli cari. Capisco che molti sono impegnati a vedere la partita, a leggere il Corriere dello Sport e probabilmente ciò che sto per dire non interessa loro, ma interesserà anche loro. Perché, fratelli cari, sono delle cose che il Signore mi sta mostrando passo passo. Io non avrei, se devo essere sincero, immaginato una cosa del genere perché è troppo eclatante e troppo assurda per sembrare vera. Vi dico di che si tratta, vorrei che poneste mente e che guardaste questa foto, questa immagine. Troviamo sulla sinistra, sono gli azionisti della Banca d'Italia in percentuale. e poi troviamo gli azionisti, soci e proprietari della Banca Centrale Europea, della BCE. Perciò azionisti della Banca d'Italia e soci e proprietari della Banca Centrale Europea. Fin qua, niente di strano, qui troviamo una quindicina, credo che siano, non so, 14-15. Le banche sulla destra troviamo i veri proprietari della BCE. Banca di Belgio, Banca di Germania, Banca di Spagna, Banca d'Irlanda, Banca del Lussemburgo, Banca d'Austria, credo che sia, Banca della Danimarca, Banca della Grecia, Banca di Francia, Banca d'Italia, Banca d'Olanda, Banca del Portogallo, Banca, non so che cosa significa, pacchi, boh, non so quale nazione è, Banca d'Inghilterra e Banca di Svezia. Sono 14 banche, credo se non ho fatto i calcoli sbagliati, che sono proprietari e soci della BCE. Ognuno ha messo una percentuale, un capitale diverso, però sono proprietari. Ma dobbiamo cominciare ora a capire un'altra cosa, fratelli cari, perché abbiamo trovato i nomi di tutte le banche nazionali di queste nazioni. Ma queste banche, per esempio la Banca d'Italia, che l'abbiamo trovata ed è comproprietaria della BCE, ma chi è proprietaria della Banca d'Italia? Essendo Banca d'Italia si presume che fosse l'Italia la proprietaria. Se è Banca d'Italia dovrebbe essere l'Italia, anche perché nel passato la Banca d'Italia era una banca a sé stante, era la Banca nazionale d'Italia e aveva nel cavo anche il corrispettivo della moneta che stampava in oro, in riserve aurea, che adesso quest'oro, non si sa dove sia, che è andato a finire. Ma la cosa assurda perché nel dire Banca d'Italia si presume che sia il governo centralizzato italiano a gestirla. Invece, fratelli cari, ho fatto una scoperta che mi ha lasciato stupito. Chi sono i proprietari della Banca d'Italia? Banca d'Italia. Dovrebbe essere l'Italia, proprietaria della Banca d'Italia. E invece, fratelli cari, così non è. Sono banche private. E allora vediamo un po' nel dettaglio chi sono i padroni della Banca d'Italia. Banca intesa per il 26,8, Banca di Roma per l'11,1, Credito italiano per il 10,9, San Paolo, Imi, 9,0, Mediobanca, 8,3. UPS, 5, Carige, 3,9, BNL, 2,8, MPS, 2,5, RAS, che poi credo che sia una compagnia di assicurazione, 1,5 e altri un po' generici, il 18%. Ma lo Stato italiano che c'entra con la Banca d'Italia se sono proprietari privati? Forse adesso si spiega l'arcano del cosiddetto salva banche. Con i soldi nostri. Attenzione, miei cari amici e miei cari fratelli. Questi sono quelli che avete votato. Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio. Tutti i governi, parliamo dell'Italia ma un po' la fotocopia sarà in tutte le nazioni, si sono venduti alla finanza, ai finanzieri. Io ho guardato, soltanto non ho guardato tutte, ma ho guardato l'Unicredito per sapere chi sono gli azionisti dell'Unicredito, udite, udite, il 51% è americano. Perciò, ovviamente, una decisione di Unicredito, che è padrona insieme a tutte le altre della Banca d'Italia, la può prendere benissimo l'America perché avendo il 51% delle azioni decide per tutto il resto. E probabilmente anche in tutti gli altri ci sarà la stessa cosa, fratelli cari. Perciò possiamo dire che la Banca d'Italia al 51% delle azioni di Unicredito è americana. Avete capito? E questo varrà, se volete passarvi il tempo tra una partita e l'altra, potete guardare chi sono gli azionisti di tutte le altre banche. Perciò la Banca d'Italia è una banca privata che però si fa chiamare d'Italia perché fa i debiti e poi alla fine sono tutti gli italiani, come abbiamo visto nel precedente video col Target 2. Fratelli cari, vi rendete conto dell'inganno? Ci troviamo adesso ad avere più di 2.500 miliardi di debito e facendo un po' un calcolo, ripartendolo per 60 milioni di italiani, ho scoperto di avere 40.000 euro di debiti a cranio, a persona. Ma dietro tutto questo ci troviamo gli investitori americani e chissà in tutte le altre banche, se qualcuno si vuole prendere la bica, dovrebbe andare a vedere, per esempio, anche la Bundesbank, chi sono gli azionisti, perché la Bundesbank sarà fatta anche di banche private come quella italiana. Ci sarà soltanto, sarà la facciata, perché in Italia, almeno in Italia io non ho fatto una ricerca per le altre banche, si chiama Banca d'Italia, ma l'Italia non c'entra un fico secco, sono istituti privati. Ecco perché quei buonuomini che hanno venduto l'Italia ai rettiliani, che sono stati ai governi e sono al governo, fratelli cari, si sono curati delle banche. E quando lo scandalo, gli inghippi della Banca Etruria, Etruria, noi italiani, lo Stato ci ha messo dei soldi. Per darli a chi? Ai privati azionisti delle banche private. Banche private che si nascondono dietro il nome di Banca d'Italia, ma l'Italia non c'entra, anche perché le azioni di queste banche, gli azionisti di queste singole banche, sono stranieri. Nell'unicredito il 51% è americano. E ovviamente qui dietro ci troviamo i Rothschild, i Soros, i Rockefeller, e ci troviamo la Fed americana, la Federal Reserve. Perciò, fratelli cari, quando qualcuno scempiamente parla di politica e parla di sovranità nazionale, ma che sovranità? Dov'è questa sovranità se non sei padrone neanche dei soldi che hai? E che poi non hai nella realtà neanche qualcosa di valore come la riserva aurea. Queste banche hanno riserva aurea? Paperon de' Paperone si stampa i soldi come li stampava Totò e Beppino de' Filippo, ci danno il nulla, perché poi c'è tutto il giro dei bot, che praticamente li devono emettere le banche private. e dov'è lo Stato? Dov'è stato lo Stato? È latitante perché ha venduto totalmente la sovranità nazionale a questi illuminati maledetti da Dio, non eletti da nessun popolo, finanziari. dietro sono nell'ombra, non si presentano i Rockefeller, i Rothschild, o Soros alle elezioni, no, no, loro sono nell'ombra, ma possiedono già tutto il mondo. Qui stiamo parlando in modo particolare dell'Europa, anche perché tutte queste banche, queste potenti lobby di finanziari gestiscono tutta l'umanità e hanno potere di vita e di morte, hanno potere di distruggere non una singola persona soltanto, ma una nazione muovendo del capitale. Ma ovviamente a voi altri interessa più sapere qual è il portiere che si è comprato all'Inter o l'attaccante della Juventus. Sono questi i vostri interessi. A molte forse può sembrare strano che sto simpatico vecchietto che si è bevuto al cervello parla di molte cose, parla di scienza, parla di fisica, parla di politica e parla di spiritualità. Parla delle cose del regno di Dio e parla delle cose anche del regno della Terra. Voi non sapete neanche che forma ha la Terra e potreste capire questo grande inganno se non fosse per il Signore. Neanche io potrei capirlo. Perciò che cosa succede? Nel video precedente ho spiegato un po' che cos'era il Target 2. Ma alle spalle del Target 2 ci sta tutto questo perché se io faccio una transazione da privato in un'altra banca privata devo fare indebitare l'Italia? Perché fratelli cari così funziona. Sul nulla. Queste banche possiedono la Banca d'Italia però il debito lo possiede l'Italia il debito pubblico è dell'Italia abbiamo 2.500 non mi ricordo quanti sono miliardi di debito pubblico del nulla il debito pubblico ce l'ha la Banca d'Italia e non ce l'hanno queste banche che la formano. Non vi sembra una cosa assurda? è come dire io ho un'impresa siamo 50 soci e in questa impresa io vado in fallimento ma non andiamo noi soci azionisti dell'impresa va in fallimento e deve pagare i miei debiti qualcuno che non c'entra affatto in questo caso lo Stato italiano. Aveva un senso se la Banca d'Italia era gestita da capitali italiani che non c'erano altri azionisti se è d'Italia almeno il 51% doveva essere italiano invece qui vediamo che non lo è affatto tutto questo perciò cari amici e cari fratelli guardate documentate non fate gli struzzi abbiamo messo la nostra vita nelle mani dei potenti della terra a cominciare dagli infami religiosi abbiamo messo la nostra vita nelle mani della falsa scienza ci hanno fatto credere che gli asini volano ma non è vero fratelli cari gli asini non volano i cretini siamo noi e ancora la gente litiga voto Antonio 5 stelle adesso fa parte tutti fanno parte di quel gioco adesso hanno deciso di far crollare il tutto e perciò 5 stelle deve continuare a fare la voce grossa ma dove erano prima ma perché non hanno pubblicizzato questi dati perché non hanno pubblicizzato questi dati potenti della terra ma li hanno tenuti nascosti molti non sanno neanche che cos'è il tip forse conosceranno il tip d'appi e fratelli cari a quanto sembra Trump non ha voluto firmare questo trattato di interscambio tra l'Europa e l'America e fratelli cari è tutto un gioco sta crollando si sta rompendo si sta frantumando questo pupazzetto che hanno costruito per stritolarci per possederci finanziariamente per portarci sull'astrico parlano 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 stupidamente dicono e voi pensate si vabbè ma andiamo a quel paese l'ABC e non gli diamo più una lira hanno fatto dei regolamenti firmati anche dall'Italia che se vuole uscire uno Stato deve saldare i debiti dove ce l'avete i soldi? ce l'hanno questi quattro disgraziati banchieri che sono proprietari della Banca d'Italia pagano loro gli azionisti pagano gli americani per esempio che hanno il 51% dell'unicredito guardate guardate chi sono i veri azionisti di queste banche e vedete quante azioni ci sono dello Stato Italiano vedete informatevi documentatevi ci hanno fatto fallire su nulla ma voi continuate ancora a seguirli a parlare a fare dibattiti a tifare vota Grillo vota questo vota l'altro adesso c'è Di Maio e ci avremmo il Di Meio adesso si risolvono tutti i problemi c'è Salvini ci salverà e tutto a posto quando sono tutti un branco di massoni come lo era lo era lo è ancora Bossi come lo ebbe per Grillo e i suoi parlamentari che a Montecitorio si grattavano la pancia con la mano nascosta non avete capito è un inganno è un inganno globale io non tifo per nessuno a me il Signore mi ha chiamato a predicare la verità ma quale verità quella che piace a te quella che piace ai religiosi io predico Cristo Gesù il Signore dei Signori il Re del Re Egli è la via la verità e la vita e tutto quello che c'è nascosto il Signore lo fa venire alla luce lo sapevi tu questo che siamo stati indebitati sul nulla e che continua ancora a fare salire il debito pubblico sul nulla lo sapevi ma fratelli cari amici cari perdonate lo spoco del simpatico vecchietto perché questa cosa mi ha indignato parecchio ma più che questa cosa la vostra passività la vostra lobotomizzazione la vostra zombificazione che non volete sapere non vi interessano queste cose non avete tempo per pensare perché dovete portare il bambino in piscina lo dovete portare di qua dovete andare a mare vi dovete mangiare la pizza mentre ci hanno messo il cappio attorno alla gola e sono pronti ad aprire la botola della forca che l'uomo stesso si è costruita con l'immagine costruendo l'immagine della seconda bestia la bestia che sale dalla terra e poi non si potrà comprare non si potrà vendere il cappio è già al collo di tutta l'umanità e adesso siamo nella fase finale fratelli cari siamo nella fase finale cosa avverrà questo questo governo di 5 stelle che sembra il governo dei palatini di Francia è stato messo proprio lì per fare scoppiare la bomba cosa avverrà tutte le altre nazioni e adesso anche in altre nazioni ci sono 20 di destra la sinistra ha caricato la polvere e la destra ha dato il fuoco alla miccia e in mezzo tutta l'umanità si è convinta che adesso con questo governo in Italia premetto che io non voto e non mi occupo di politica di nessun governo perché sono tutti rettiliani o venduti ai rettiliani posseduti da spiriti rettiliani sono burattine nelle loro mani hanno venduto l'anima al diavolo e hanno consegnato nelle mani del diavolo tutta l'umanità e sono pronti allo sterminio finale alla Shoah finale fratelli cari ma voi altri siete lobotomizzati continuate ad andare nelle chiese a praticare le messe nere e adorare Lucifero siete lì a glorificare i religiosi che predicano dei loro polpiti e vi sfruttano pure loro con decime con offerte con otto per mille voi date l'otto per mille e questi fanno i nababbi sulle vostre spalle sì quel poverino del cardinaluccio Bertone con l'attico solo di 750 metri quadri gli ha fregato i soldi al bambino Gesù ma sta tornando Gesù il leone della tribù di Giuda i flagelli di Dio sono già sulla faccia della terra catastrofi l'una dopo l'altra ma voi dormite voi siete tra le braccia di Morfeo dormite tutto sta esplodendo e comincerà qui il grande dramma in Italia fratelli cari già hanno fatto le prove con la Grecia fratelli cari hanno già previsto tutto fratelli cari ma sappiate che per quelli che si svegliano il Signore ha un piano di salvezza e ci apparterà e ci porterà nel deserto per un tempo dei tempi e la metà di un tempo dall'oggi al domani possono dichiarare fallimento possono chiudere le banche possono non esserci più erogate le pensioni può finire tutto ti possono bloccare la carta il banco ti possono chiedere per forza di metterti il microchip ma tu che farai che farai che faremo cerca Dio cerca il Signore perché se tu non cerchi il Signore adesso tu vedrai l'inizio della grande tribolazione e verranno tempi che giammai ce ne sono stati sulla faccia della terra e giammai ce ne saranno questa è la realtà la banca d'Italia non è dell'Italia però la banca d'Italia deve pagare i debiti che con questo meccanismo contorto addirittura io mi compro una cosa ho comprato il microfono con il quale sto parlando dalla Germania mi è costato quasi 100 euro gli ho mandato i soldi con una transazione tra la banca mia e la banca privata tedesca e addirittura la banca d'Italia si trova debitrice di 100 euro verso la BCE Federica ma vi rendete conto dell'inganno? e questo incide sul debito pubblico eh? avete capito? com'è l'inghippo e perché lo spread con la Germania? perché la Germania è quella che ha messo un capitale maggiore in questa cricca di banda bassotti e fratelli cari adesso siamo alla resa dei conti tutto sta crollando la statua di Babilonia sta crollando colpita i piedi hanno programmato il piano calergio il mesconamento delle razze ma i piedi sono fatti di ferro e di argilla l'argilla e il ferro non possono legare l'argilla e il seme umano vogliono mescolare tutte le razze europee e ci hanno messo pure anche extra comunitari vogliono mescolare tutto per fare un uomo che ha perso completamente la sua identità avete capito? hanno stabilito pure il gender hanno stabilito che ti danno anche i medicinali per bloccare la pubertà ti fanno le lezioni di sesso ai bambini ormai tutte le sfilate gay l'omosessualità tutta la gente mezzanuta che gira per le strade e fa cose oscene addirittura hanno presentato pure un Cristo gay e pensi che durerà troppo ancora tutto questo tutto crolla e il Signore sta per tornare in gloria io vi avviso vi ho avvisati vi ho detto tante di quelle cose nei miei video e sul mio sito ho parlato di varie cose fratelli cari non mi sono fossilizzato soltanto a parlare soltanto di Bibbia fratelli cari perché la verità non è altro che l'opposto della menzogna e non è soltanto la parola di Dio la Bibbia è una traccia di spiritualità che noi dobbiamo mettere ad effetto fratelli cari ma la verità è tutto quello che non è menzogna e questi ci hanno detto tante menzogne ci hanno indebitato sono strozzini hanno fatto suicidare tanti padri di famiglia hanno rovinato l'economia e voi ancora li votate li osannate io molte volte vedo e mi spoetizzo mi viene da vomitare nel vedere tante cose che pubblicate adesso c'è Grillo Salvini oh si è tutto risolto che si è risolto sta crollando tutto queste sono venute per dare fuoco alle micce non l'avete capito stanno facendo delle cose spudorate gli italiani morti di fame e gli extra comunitari con le mani sulla pancia a godersela negli alberghi a 5 stelle forse a 5 stelle c'entra pure fratelli cari tutto sta crollando io vi esorto nell'amore del Signore cercate Dio ravvedetevi pentitevi andate al Signore perché sta per avvenire una strage per voi e per i vostri figli i giudizi di Dio sono sulla faccia della terra ma non vi rendete conto di ciò che sta avvenendo catastrofe a non finire la terra si sta aprendo e stanno per uscire dalle viscere della terra tutte queste creature infernali è tutto uno sconvolgimento globale gli angeli del Signore stanno effettuando i loro giudizi sulla terra si cosa sono i tornado si gli uragani si formano da soli perché c'è l'acqua che sale quella che scende la corrente di qua vi hanno bevuto il cervello fino al punto di credere che la terra è una palla e perciò fratelli cari ravvedetevi cercate la faccia del Signore abbassatevi togliete tutto questo vostro orgoglio tutta questa vostra presunzione non avete l'unzione di Dio non sapete cosa sono le cose della terra e pensate di conoscere le cose del regno di Dio tutto crolla ma non crolla colui o colei che è fondato in Cristo Gesù perché quella è la pietra angolare dove l'hai fondata la tua casa sulla rena del mare su un versettino qua un versettino là che lo pubblichi pure con i fiorellini e le stupidaggini e le frasi ad effetto togliamoci togliamoci ste paraocchi dinanzi agli occhi toglietevi togliamoci i prosciutti dagli occhi che li hanno messi apposta affinché noi non possiamo vedere la verità tu immaginavi che la banca d'Italia non era italiana che era privata e come mai abbiamo tutto questo debito hanno amministrato male le banche private si sono mangiati i soldi le banche private e ci hanno messo il debito pubblico a noi altri truffe imbrogli inganni e dopodiché dici salviamo le banche perché sennò poi falliscono le persone si trovano in mezzo alla strada e gli diamo i soldi ai potenti della terra che se li stampano col ciclostile come paperon dei paperoni lo sapete che il denaro che stampa la BCE è privato lo sapete che c'è il copyright che domani possono dire gli euro non valgono più nulla lo sapevate questo guarda prendi una banconota e guarda nella parte sinistra in alto troverai il cerchietto con la C che è il copyright hanno già preparato tutto come andrà a finire andrà a finire che i figli di Dio già risvegliati il Signore ci porterà e ci apparterà nel deserto per un tempo dei tempi la metà di un tempo e coloro che non si sveglieranno coloro che continueranno ancora a seguire questi stolti vedranno l'inizio delle piaghe pur essendo magari figli di Dio fratelli questi guarda questi sono i padroni della Banca d'Italia se hai tempo guarda vai su internet metti questi i nomi delle banche e guarda quali sono gli azionisti io ho guardato soltanto l'Unicredit il 51% è degli Stati Uniti d'America perciò l'Unicredito è americano lo sapevate? però fa parte della Banca d'Italia in cui l'Italia non c'entra nulla e nel nel credito italiano decida l'America lo sapevate questo? e ci sono molte altre cose che avrete a dirvi ma non so se riuscite a capire neanche queste mi fate la guerra ve la state facendo da soli la guerra mi deridete mi reputate chissà chi io devo dirvi queste cose perché il Signore mi dice di dirvele qualcuno dice parla pure di queste cose di finanza di politica sì parlo pure di questo perché tutto quello che non è verità è menzogna vi hanno e ci hanno ingannati sia quei fedentoni di tutti i religiosi messi insieme sia i fedentoni della falsa scienza che continua ancora a deriderci e sia la finanza mamma mammona le ricchezze della terra vi siete venduti Cristo per 30 denari e non erano neanche veri erano pure false quei 30 denari io vi consiglio di ravvedervi fratelli cari mi sono stancato veramente io se non fosse per il Signore manderei tutti a quel paese non farei più video non pubblicherei più nulla perché quello che dovevo dirvi ve l'ho detto ma il Signore mi dice ancora grida perché io so che ho molti fratelli ciechi che non vedono hanno occhi che non vedono hanno orecchie che non odono vanno dietro i pezzi di legno riconoscono pastori gli impostori vanno dietro pagano decime offerte otto per mille credono nella Trinità se fanno il segno della croce per innalzare lo strumento di tortura del mio Signore vi hanno lobotomizzati vi hanno fulminato la pineale e voi non riuscite a porre mente vabbè fratelli cari scusate il simpatico vecchietto se vi dice la verità andate da quelli che vi dicono le bugie rassicuranti come si suol dire ora si risolverà la crisi adesso ci sono le 5 stelle vi faranno vedere le stelle le stelle del pentacolo guarda caso perché 5 stelle con la lingua biforcuta del serpente in mezzo movimento l'hanno detto che ci mentono movimento e ci hanno mentito e continuano ancora a mentirci e voi li innalzate sono tutti una pasta sono tutti fitusi sono tutti servi di satana religiosi compresi politici banchieri non vi rendete conto governano l'umanità e governano anche le vostre menti vi mentono e voi credete sono andate sulla luna di lunedì vabbè fratelli cari credete fate quello che vi pare e piace vedrete una verità che forse non avete già mai immaginato un abbraccio a voi tutti e come sto simpatico vecchietto dice alla prossima se una prossima ci sarà il signore ci benedica a voi Grazie.